acquafer 2019 ci troviamo lo stand della calligan la società americana che si occupa di trattamento e filtrazione dell'acqua a tutto tondo e siamo in compagnia del direttore marketing dell'azienda marcello miradola benvenuto buongiorno buongiorno marcello intanto spieghiamo che radici ha la calligan che è davvero un colosso presente in tante nazioni in tutto il mondo allora calligan nasce più di 80 anni fa negli stati uniti da un signore che si chiamava emmet calligan che si inventa delle tecnologie innovative per il trattamento dell'acqua l'addolcimento non togliere il calcare da quest'idea geniale la strada per questa azienda è stata lunga e siamo cresciuti siamo presenti in più di 40 paesi con sistemi soluzioni che vanno dal trattamento dell'acqua di base quindi la filtrazione addolcimento la frigogasatura fino a trattamenti specifici il che ci permette di essere presenti con soluzioni per la casa nell'ufficio nel mondo orica food service con applicazioni commerciali industriali fino ad arrivare all'ospedaliero pubblico quindi nelle municipalità gli acquedotti e le grandi navi da crociera insomma direi davvero tanta roba come si dice in genere e qui nello specifico proponete delle attrezzature proprio dedicate alla distribuzione automatica in parte all'oreca dall'altra parte e in ogni caso al fuoricasa quello che in gergo viene chiamato auto boom esattamente così a noi piace parlare di soluzioni perché non si parla più soltanto di attrezzature impianti ma di un servizio a tutto tondo le persone vogliono acqua di qualità non vogliono uno strumento un oggetto un frigorifero un sistema di trattamento dell'acqua e quindi interpretiamo questi come i loro bisogni quindi un servizio a tutto tondo qui oggi parliamo principalmente di soluzioni per il cosiddetto auto boom che possa essere ufficio o il più ampio diciamo spazio dell'ospitality dell'oreca e del food service e nello specifico alla mia sinistra abbiamo un buccione che è molto simile a quelli che si vedono in commercio ma con un nome particolarissimo perché invece di chiamarsi buccione l'avete chiamato goccione con la g si si chiama goccione è un marchio registrato calligan calligan è stata tra i primi a portare questo questo tipo di prodotti sul mercato l'acqua è un'acqua calligan quindi un'acqua particolare che viene trattata e ha il gusto calligan ma diciamo questo è stato l'inizio noi siamo arrivati con quello ma oggi ormai sempre di più anche in virtù di una richiesta del mercato di essere sempre più sostenibili e più attenti all'ambiente ci muoviamo sempre più in soluzioni che utilizzano e migliorano l'acqua del rubinetto quindi l'acqua di rete che è ottima ma si può anche migliorare e fatelo con noi e allora per chi desidera avere maggiori informazioni entrare in contatto con voi magari diventare vostro cliente c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno ma la cosa migliore andare sul nostro sito www.calligan.it da lì si trovano tutte le informazioni su tutte le nostre soluzioni per tutti i settori informazioni sui nostri prodotti e c'è la possibilità di chiedere informazioni senza alcun impegno tipicamente noi poi richiamiamo verifichiamo l'effettivo interesse e mandiamo uno dei nostri consulenti per capire esattamente quali sono i bisogni tema dell'acqua dell'acqua di qualità parte sempre da un'educazione di fondo ahimè come in tante cose oggi se non c'è l'educazione non si può scegliere bene e quindi noi investiamo tantissimo siamo sicuramente attori primari nel mondo dell'educazione la qualità dell'acqua è anche un problema di culture assolutamente sì marcello grazie per la disponibilità ci rivedremo in una delle prossime fiere prossimamente saluta tutti gli amici di oreca tv.it buonasera oreca tv grazie e noi continuiamo per mostrare altre novità presentate nel corso di acqua fair 2019 la biennale dell'acqua di venezia grazie a tutti grazie a tutti